In collaborazione con Feralpi Salò News, nuovo appuntamento con il nostro rotocalco dedicato ai Leoni del Garda. Benvenuto al nostro amico Branduani che è venuto a trovarci questa sera per fare insieme a noi il punto di quella che è la situazione in casa Feralpi Salò dopo la sfida con il Renate che si chiusa con un pareggio e alla vigilia di questo lungo sprint del campionato di Lega Pro che prevede ancora la disputa di sei partite. Benvenuto, ciao, come stai innanzitutto? Buonasera, sei in forma? Tutto bene, sì, sì. È già tempo di bilanci? Mancano sei giornate, l'obiettivo che avevate e che dovevate raggiungere era la salvezza e è stata raggiunta la grandissima. Vi siete tolti, secondo me, parecchie soddisfazioni. Avete anche dimostrato, palesato un buon gioco. Insomma, è già tempo però di vacanza perché mancano ancora sei partite. Perché ho letto le dichiarazioni stamattina anche del Presidente Pasini che dice ma forse siamo un po' stanchi. No, è tempo di bilanci. I bilanci si fanno sempre alla fine della stagione, quindi si faranno alla fine di queste sei partite. L'obiettivo primario era la salvezza, sembrerebbe raggiunto. Adesso abbiamo queste sei partite dove possiamo toglierci delle grosse soddisfazioni e dare il meglio di noi, sicuramente. Allora, vediamo un po' come è andato l'ultimo turno di campionato, sempre grazie al contributo della nostra regia. E allora vediamo insieme i risultati e la classifica. Quindi spicca direi il successo in quello che era il big match di giornata del Bassano a spese dell'Alessandria. Vittoria importante in chiave salvezza e anche per quanto riguarda la lotta per i play-off, anche quella della Cremonese a spese del Como. Perché era partita una sorta di testa-coda, poteva essere importante. Per quanto riguarda le altre pretendenti alla promozione, il Novara batte in Real Vicenza, ancora il Pavia che chiude sulla 0-0 la sfida con il Gianna Erminio, che si conferma formazione ostica da affrontare. Direi che la classifica ci dimostra come quello che ci attende sarà un finale al cardiopalmo, perché veramente può succedere ancora di tutto. Allora, Como a quota 54, Feralpi a quota 48, là davanti Novara con 63 punti, Col Bassano a quota 61. Insomma, una classifica apertissima ancora, no? Sì, sicuramente le prime quattro hanno un qualcosina in più rispetto agli altri. Noi, la nostra posizione è importante e ce la metteremo tutta per mantenerla e poi, chissà, magari anche migliorarla. Diciamo che siete davanti a società e a squadre come l'Arezzo, il Venezia, lo stesso Mantua, che pur ha vissuto una stagione ricca di contraddizioni, la Cremonese, il Monza, l'Albinoleffe, squadre cioè dal grande blasone, squadre che hanno avuto un recente passato anche in categorie molto importanti. Già questo credo sia indicativo di quello che è stato fino ad oggi il vostro campionato. Sicuramente abbiamo messo dietro squadre importanti con blasoni che a inizio anno erano per vincere il campionato o per fare i play-off. Sicuramente a noi ci dà molta fiducia, ci dà molta carica questa cosa e adesso stanno noi in queste sei partite cercare di confermarci in quella parte di classifica alta, diciamo. Te lo sareste aspettato all'inizio della stagione di ritrovare la Feralpi-Salò a sei giornate dal termine in una posizione di classifica come questa? Beh, all'inizio dell'anno... Con tanti giovani, con una squadra molto rinnovata? Magari non in quelle posizioni, però ci avremmo sperato sicuramente. Gli obiettivi di inizio anno erano una salvezza tranquilla e cercare magari di migliorarci rispetto all'anno scorso. Allora, la contraddizione in qualche modo rispetto ad una classifica che, ribadisco, secondo me è straordinaria, in qualche modo la contraddizione viene dalla considerazione che due giocatori che in qualche modo erano considerati due pilastri, anche se sono arrivati in tempi diversi, alla fine per ragioni differenti, per una serie di problemi, anche indipendenti dalla loro volontà, non hanno dato quel rendimento che il loro nome poteva far supporre. Mi riferisco evidentemente alla bruscata da una parte e al mio amico Juan Antonio dall'altra. Cioè due giocatori che possiamo considerare di categoria superiore, due giocatori di grandi qualità, che però, come dicevo prima, per una ragione o per l'altra, anche indipendenti dalla propria volontà, non sono riusciti a offrire un certo contributo. Pensa se questi due giocatori avessero potuto dare appunto quello che era nel loro DNA. Sicuramente è un grosso rimpianto questo, purtroppo. Juan Antonio è stato martoriato dagli infortuni, come è successo ieri. Ha bruscato, ha avuto problemi di vario tipo. Di vario tipo e sicuramente sono stati due elementi che all'inizio dell'anno si diceva che avrebbero fatto la differenza e invece sono magari quei due valori che sono mancati per quel salto che potrebbe essere. Possiamo direvi, d'altra parte, che questo ha consentito magari a qualcun altro dei giocatori e a disposizione di Beppe Scienza di mettersi in mostra. Evidentemente, se non ci fossero stati questi problemi per Juan Antonio e ha bruscato, magari qualcuno di coloro che poi invece sono stati determinanti avrebbe giocato molto meno. Eh, magari sì, sicuramente. Perché alla fine poi, insomma... Sì, diciamo che Elvis era partito come titolarissimo e tutto e con la sua mancanza è venuto fuori Romero. Poi avete trovato i gol di questo difensore che potrebbe fare da grande il centro avanti, visto che è giovanissimo, ancora... come dire... Ha fatto sette gol quest'anno e sicuramente ci ha dato una grossa mano. Ma quando vai in attacco tu gli dici, torna vincitore? Cosa gli dici? No, diciamo che vengo subito. Diciamo che siamo sensereni quando lo vediamo andare su. Davvero, ma incredibile però, perché è un giocatore che ha il senso del gol straordinario. Sì, sì, ha avuto grossi meriti lui, grossi meriti anche ai compagni che l'hanno messo nelle condizioni di fare questi gol e meriti anche in settimana che questi schemi vengono provati e riprovati sicuramente. E che lui non è che sia, come dire, una sorpresa. Lo sanno tutti che lui è un giocatore che è in grado di fare 3-4 gol all'anno, che si inserisce. Nonostante questo però riuscite quasi sempre a sorprendere le difese versate. Adesso forse alla fine vi hanno preso un po' le misure. Adesso sì, comunque iniziano a conoscerci, iniziano a vedere i video dei nostri calci piazzati. Però anche se ci vedono comunque sulle palline attive, facciamo sempre qualcosa di pericoloso. E naturalmente, indipendentemente da quello che è il valore dei singoli giocatori, bisogna anche dare merito a Beppe Scienza, che è colui che poi questi schemi li disegna, li prepara insieme ai suoi collaboratori. Abbiamo detto del pareggio nell'ultimo turno di campionato, normale amministrazione, può succedere, no? Non avete giocato una partita particolarmente brillante. No, abbiamo creato un po' meno occasioni rispetto a partite come quella col Mantua e col Arezzo, però abbiamo avuto comunque delle occasioni per poterla portare a casa. E allora, vediamo com'è andata nei riflessi filmati, nel servizio che ha preparato per noi Fabio Pettano. Vediamo. La Feralpis lo avanza piano la quota dei 50 punti in classifica, ma deve dire definitivamente addio ai sogni di gloria. Sulla ruota dello stadio Lino Turina esce nuovamente il segno X, terzo pareggio a rete inviolate consecutivo per la squadra del patron Giuseppe Pasini, che si allontana definitivamente, così dai sogni di gloria di salire, sul treno degli spareggi promozione. Anche contro Renate il gruppo capitanato da Omar Leonarduzzi non riesce ad andare oltre la conquista di un punto, dimostrando di non essere in un grande momento di forma. Lo sforzo di un campionato d'assoluta protagonista si sta facendo sentire nelle gambe, ma soprattutto nella testa della compagine allenata da Beppe Scienza. Ma una gara senza reti non vuol dire per forza partita brutta. Feralpi e Salò e Renate si sono affrontate a viso aperto. Sfida che perde, dopo soli 17 minuti di gioco, l'argentino Juan Antonio per infortunio. Al suo posto Gallupini, con l'ex del Vicenza, a creare la più ghiotta palla-gol del primo tempo, conclusione che l'estremo ospite devia in angolo con l'aiuto della traversa. Nella ripresa il ritmo della sfida cala, con la Feralpi e Salò a non trovare più la forza e la freschezza per andare ad offendere. Il Renate respingeva facilmente gli attacchi della squadra di casa, provando a sua volta qualche sortita offensiva che tuttavia non produceva effetti concreti. L'applauso del pubblico a fine gara dimostrava quanto comunque di buono sia stato fatto dai leoni del Garda in una stagione comunque da ricordare. Abbiamo chiuso con un tuo intervento molto tranquillo, sicuro. Bravo, che la lì la prendevo anch'io. Invece il tuo collega del Renate ha fatto un paratone più distinto, direi che di classe. Sì, ha avuto l'istinto di metterci il corpo su quella palla di Gallupini che ha preso poi la traversa. Partita comunque relativamente tranquilla, c'è anche da dire che ormai i tifosi della Feralpi e Salò sono abituati bene, per cui aspettiamo sempre una vittoria, ma ci sono anche gli avversari. Sicuramente si aspettano sempre qualcosa in più, visto anche come stiamo andando in questi ultimi due anni. Noi ce la mettiamo tutta, però non è sempre facile portare a casa i tre punti, soprattutto perché adesso è la terza partita in casa che giochiamo contro squadre che vengono con otto giocatori per difendersi praticamente. E quindi non è sempre facile scardinare queste difese qua. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Come ho detto prima, adesso abbiamo altre sei partite dove giocheremo sempre per... Con la stessa intensità. Facciamo una pausa, ci ritroviamo tra pochissimi istanti per la seconda parte di Feralpi e Salò News. Eccoci di nuovo insieme con il nostro amico Branduani a parlare di Feralpi e Salò. Io aprirei però una parentesi perché noi spesso all'interno della nostra trasmissione, ci occupiamo all'interno di questo spazio dedicato e riservato alla Feralpi e Salò, ci dedichiamo al settore giovanile che è la parte importante della Feralpi e Salò, che è il futuro rappresenta in qualche modo della società dei Leoni del Garda. Bene, Feralpi e Salò brilla anche per tutta una serie di iniziative che vedono coinvolte a vario livello i giocatori, la squadra e il settore giovanile. Cioè Feralpi e Salò prova a uscire da quello che è l'ambito normale, per cui ci sono tutta una serie di iniziative che meritano grande attenzione. E in queste ultime ore c'è stato un incontro, adesso vedremo delle fotografie, un fotoservizio che è del nostro amico Filippo Venezia di Fotolive, che ci testimoniano del secondo appuntamento del progetto scuole gestito da Feralpi e Salò in collaborazione con alcuni istituti comprensivi della provincia e col supporto di altre società sportive del territorio come la Canottieri Garda, il rugby calvisano, l'atletica robur di Barbarano. Lo scopo del progetto è la diffusione di valori sportivi e l'avvicinamento ad essi dei bambini grazie a qualsiasi attività. Il motto è sport, non solo calcio. Dopo l'appuntamento a Rudiano è toccato alla scuola elementare Paola Di Rosa di Ronaldo del Garda, dove oltre 100 bambini e ragazzini delle scuole elementari e medie hanno ricevuto il libro dedicato al progetto e redatto dalla Feralpi e Salò, all'interno del quale si sviluppa un'equazione semplice nel contempo complessa, gioco più salute più divertimento uguale a sport. La mattinata ha visto protagonisti i ragazzi, quella che è stata la seconda delle tre tappe del progetto, che coinvolgerà per adesso anche Salò, infatti ci sarà la visita anche alla scuola San Giuseppe, Vestone, giovedì 9 aprile, e ancora all'onato del Garda alle scuole Don Milani, conoscere l'idea dei leoni del Garda che si basa sulla condivisione dei valori sportivi in generale, questo è l'obiettivo. Il secondo appuntamento sarà pratico per cimentarsi nelle attività più disparate dal calcio, al canottaggio, dall'atletica al rugby. Infine c'è un terzo step, le scuole coinvolte al termine del secondo percorso saranno ospitate sugli spalti dello stadio Turina per assistere all'ultima partita casalinga della stagione contro il Lumezzane, un nutrito gruppo di nuovi tifosi che sapranno apprezzare lo sport in tutte le sue sfaccettature. A presenziare in questo incontro del quale vi stiamo mostrando queste immagini, oltre al vice responsabile del settore giovanile Pietro Lodi, anche il calciatore Mattia Broli, che ha consegnato i libri autografandone ogni singola copia. Mazza, l'hanno fatto impazzì perché erano 100 bambini, ha dovuto firmare, alla fine è venuto via col campo dello scrittore, no? Vabbè, è abituato a scrivere, lui comunque va a fare l'università. Tra l'altro c'è una squadra dal livello medio istruzione e cultura piuttosto elevato, no? Abbiamo ancora qualcuno che fa l'università dentro la squadra, tipo Mattia appunto. A quale facciamo naturalmente l'in bocca al lupo affinché possa al più presto laurearsi, naturalmente a Dio piacendo, no? Sì, sì. Senti, ma l'anno prossimo tu dove stai? Stai qui? Eh, non lo so, io ho il contratto in scadenza a giugno e vedremo che cosa vorrà fare il direttore. E Eugenio Olli ovviamente, quali saranno le intenzioni della società. E poi ne parleremo e vedremo, ci sederemo a un tavolo e parleremo. La tua intenzione quale sarebbe? Se mi cerca la Juve dice scusate ma vale. Ma visto che mi pare che Buffon non abbia alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo, anzi... Va avanti. Ci sederemo al tavolo e vedremo, sicuramente può essere... È un progetto importante, una società sana, sono qua da cinque anni. Sai, a volte, scusami, ti interrompo proprio sui cinque anni, a volte si può correre il rischio di adagiarsi un pochino, no? Da questo punto di vista il portiere è avvantaggiato? Perché magari non essendo giocatore di movimento, come dire, ci mette un po' più di tempo ad assuefarsi a un centro ambiente? C'è meno rischio da questo punto di vista? Sì, sì, quello sicuramente. Non c'è modo di adagiarsi, anzi... Che comunque anche il ruolo in sé non permette questo. Non ti permette distrazioni, sostanzialmente. E sempre stare attento e concentrato per tutto il tempo. C'è, secondo te, la possibilità che la Ferralpi-Salò possa addirittura migliorare in futuro la posizione di quest'anno? L'ambizione della società è sempre stata quella della politica dei piccoli passi, ma evidentemente vincere piace a tutti, compreso a Giuseppe Pazio. C'è la possibilità di migliorare? Leggendo le parole del Presidente appunto di qualche settimana fa, vuole puntare a posizioni un po' più alte a quelle dove siamo adesso. Quindi vedremo anche le scelte che faranno loro con i giocatori. Tutto passa evidentemente anche dalla capacità di poter costruire una squadra investendo, perché poi purtroppo il calcio non è fatto soltanto di intelligenza, di capacità di individuare i giocatori, è fatto anche di soldi. Sì, sicuramente. Comunque ogni anno bisogna creare un gruppo, perché prima dei singoli ci vuole un grande gruppo. Beppe Scienza è uno dei grandi protagonisti di questa stagione. Io credo abbia saputo conquistare il gruppo, abbia saputo trovare il giusto equilibrio e i risultati alla fine gli danno ragione. Peraltro che Scienza fosse bravo lo sapevamo già, l'avevamo conosciuto col Brescia e quindi sapevamo delle sue qualità. Sì, sì, grosso merito va anche al Ministro che ha saputo creare un gruppo importante e mantenere tutti sempre sul pezzo, dando possibilità a tutti praticamente. I meriti sono anche suoi di questi risultati che vengono. Come sempre si vince tutti insieme e si perde tutti insieme, altrimenti è troppo comodo, è troppo facile. Infatti. Ma a secondo te, visto che ormai questo campionato volge nella sua fase conclusiva, a chi lo vince questo campionato? Allora, avendo giocato contro tutti, quella più attrezzata è il Novara, sicuramente. Che peraltro è stato costruito anche per la Serie B, quindi tutto sommato credo che sia normale. Però starei molto attento anche al Bassano che ha fatto, mi sembra, sei vittorie di fila adesso. Squadra tosta il Bassano che alle spalle è una società molto seria, perché alle spalle, per chi non lo sapesse, c'è sostanzialmente Rosso che è il patron della Diesel, una grande azienda che produce jeans e non solo quello. Quindi insomma è una società molto ambiziosa. Alessandri a terza incomoda? Secondo me c'è, guarderei anche il Pavia. Per me sono quelli che... Alla fine sono questi. Sì, sono loro quattro, però il Novara c'è un qualcosina in più. Qualcosa in più rispetto alle altre, quindi alla fine per la promozione diretta dici Novara. Novara, prestando attenzione alle penalizzazioni che potrebbero colpire il Novara. Anche questa vicenda, è una vicenda che peraltro tocca anche il Brescia, lo sappiamo tutti, ha dell'incredibile il fatto che le penalizzazioni, anziché arrivare quando al termine del campionato mancano 20 giornate, debbano arrivare sul filo di lana, è incredibile no? Noi l'anno scorso ci ha convinto proprio in diretta che fino al mercoledì dove avevate già preso quasi il biglietto a giocare, invece poi da mercoledì siamo dovuti andare a Marcelli. Ma è mai impossibile, dico, che il calcio incappi in queste rotoli su se stesse? Lì non è solo colpa del calcio, ma è anche colpa della giustizia sportiva, della tempistica soprattutto. L'incapacità di gestire un certo tipo di situazioni, pensate un po' se appunto, un conto è se dovessero togliere un paio di punti al Novara in questo momento, un conto se glieli tolgono… A campionato fermo, perché come è successo noi l'anno scorso, il Como ha preso un punto quando si era già finito di giocare. Abbiamo parlato del vertice, dietro, giochi fatti anche dietro? Alla fine no? No, no, non ancora, basta adesso appunto, a proposito di penalizzazioni c'è il Monza e dovrebbe prendere altri quattro punti, quindi i giochi sono ancora aperti, anche per l'ultimo posto stesso, perché comunque abbiamo visto che chiunque va a Pordenone a giocare… Esatto, il Mantua che era dato in grande salute è andato là e ha buscato. Che l'abbiamo incontrato noi… Esatto, esatto, esatto. Bene, si chiude qui questo appuntamento con Feralpi Salò News, io ringrazio Branduani, come sempre è un piacere averlo nei nostri studi, per la sua tranquillità, per il suo modo anche di vivere il calcio, io credo con un certo disincanto, almeno questa è l'impressione, che non significa ovviamente non viverlo con passione. No, solo con tranquillità. Eh, in bocca al lupo, con la speranza, io mi auguro che l'anno prossimo possa rimanere, però insomma se lo chiama la Juve capisco anche che se ne va. Grazie, grazie, ciao, grazie ancora, ciao, ciao. In collaborazione con Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori,